Imitante! Fa abbastanza ridere questa roba, non trovi? Si ma è corcialo! Ma mi piace lungo! Ah ok! Anche a te piace lungo! Allora, un saluto a tutti da Iron Man e da Lady KTM! Mi fighi erano finite da rimostrare di KTM! E se cambiasse moto? Farei Lady... Ma poi confondi followers? Ah va, mi sicuravo che lo stasso, sono bellissima! Comunque questo video è un po' diverso dal solito perché oggi faremo una sorta di recensione, cioè io la farò perché io faccio una sorta di recensione e lei sarà la mia assistente! Sapete che tutti gli scienziati hanno un assistente figa e ce l'ho anch'io, giusto? Yes! Ecco! Le scatole sono queste, adesso la mia assistente l'aprirà! Non è un trucco di magia eh, devi solo aprirla! All'interno della confezione trovate il bracciale che tra l'altro è anche figo perché è giallo e nero! Sfilalo con delicatezza! E cosa vediamo? Raccontaci com'è questo bracciale! È giallo e nero, scritto Wolf! Lì qua c'è un... sarà il chip sotto, penso! E voi ve lo mettete così, penso! No, facciamo che... lo spiego io come funziona va! Siamo messi malissimi, non potrebbe capire che difficoltà per fare questo video! No, facciamo che...